Deve essere un grande onore per uno come te potersi battere contro il miglior guerriero della stirpe dei Saiyan. Sei contento, vero? Comunque sappi che anche un rifiuto, come dici tu, può diventare un eroe con la forza di volontà. Criss in pom, criss in pom, criss in pom. Oggi porta in tavola una novità. Due e due confezionate, son le fette discottate. Criss in pom, criss in pom, criss in pom. Curi gongoli croccanti che son tanto appetitosi. Cogli schiacci formarelli dei gustosi, fadolosi, stuzzica l'appetito e la fantasia. No, non ti posso credere. Come a fa?